La ventunesima ed ultima tappa del centesimo Giro d'Italia scatta dall'autodromo di Monza. 29 chilometri e 300 metri per raggiungere Piazza Duomo a Milano, dove verrà incoronato il re della Corsa Rosa. I primi quattro corridori della classifica generale, Quintana, Nibali, Pinot e Dumoulin, sono divisi da appena 53 secondi. Dopo un giro sulla pista che ospita i gran premi della Formula 1, i corridori imboccano la pit lane per portarsi dietro ai box del circuito. Al chilometro 8,8 c'è il primo rilevamento cronometrico, che lascia subito intendere chi sarà protagonista per il successo di tappa. Il bielorusso Vasili Chirienka, l'olandese Joss Van Enden per cominciare, ma anche il campione italiano di specialità a mano il Quinziato. Velocissimo l'olandese della Lotto Jambo, che chiude la sua prova in 33 minuti e 8 secondi alla media di 53 orari. 27 secondi, più veloce di Quinziato. Uno alla volta prendono il via Zakarin, Dumoulin, Pinot e Nibali. Quintana è l'ultimo, indossando la maglia rosa di leader. Il più veloce al primo rilevamento è l'olandese, 10 minuti e un secondo per Dumoulin. 17 secondi meglio di Zakarin e Nibali, più staccati gli altri rivali per la maglia rosa. Al secondo intertempo di Sesto San Giovanni, dopo 17,4 km, il distacco tra Dumoulin e Quintana è di un minuto. Nibali conferma i progressi nelle prove contro il tempo ed è davanti a Pinot, Quintana e Zakarin. Ma per vincere il giro e battere Dumoulin servirebbe ben altro. Tom fa segnare uno straordinario 33-23 in piazza Duomo. E mentre Van Emden può esultare scaricando la tensione dell'attesa, gli arrivi di Pinot, Nibali e Quintana confermano il trionfo del capitano della Sunweb, primo olandese della storia, a conquistare il Giro d'Italia. Per la terza volta la maglia rosa passa di mano nell'ultima tappa. Quintana deve accontentarsi del secondo gradino del podio. Nibali è terzo, tre leoni racchiusi in 40 secondi. Fieri avversari della competizione che ha regalato spettacolo dal 5 maggio con la partenza di Alghero al 28 con l'arrivo a Milano che ha chiuso l'edizione numero 100.